Parlate tifosi napoletani benvenuti sul canale notizie di Napoli, andiamo alle ultime dall'azzurra, ma prima se siete nuovi qui già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Sul suo periodo a Napoli ha aggiunto, tutte le squadre dove giochi ti lasciano qualcosa però Napoli ha un posto speciale nella mia memoria, perché quei tre anni sono stati l'embrione che ha fatto sbocciare una carriera che poi è proseguita a Parigi. E a Manchester. L'affetto che ricevetti a Napoli dal primo momento mi emozionò, e fece scattare dentro di me qualcosa di speciale. Sentivo che dovevo ricambiare in qualche modo, e detti tutto me stesso per farlo. Anche per questo la vittoria della Coppa Italia dopo tanti anni senza un trofeo, contro quella Juve fortissima, fu qualcosa di magico ed indelebile. Questa stagione il Napoli domina in Serie A e in Champions, può vincere lo scudetto? Oggi lo seguo da lontano, ma con grande partecipazione e attenzione e sono felicissimo per ciò che stanno facendo. Qui a Valencia hanno un tifoso in più. Non so se ce la può fare a vincere la Serie A, ma lo spero vivamente. E mi sembra che ci siano tutte le condizioni necessarie. Ehi, fan di Azzurra? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.